Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, non ci sono partite e quindi oggi mi punge vaghezza di fare un po' di conti in tasca all'Inter, ovviamente utilizzando questa che è la Bibbia, ossia il bilancio consolidato di FC Internazionale e non affidandomi a quei quattro scalzacani che ovviamente non sono interisti, dall'Inter sono ossessionati e ogni tanto li sentite parlare di cose che neppure conoscono. Io faccio sempre un distinguo, di calcio possono parlare tutti, possiamo parlare tutti di azioni, gol, non gol, di come gioca una squadra, però poi se andiamo su temi legali o temi economici, qui perlomeno sul mio canale parla soltanto chi ne ha le competenze o comunque se ne parla informandosi da chi ne ha le competenze, quindi sto parlando di commercialisti, avvocati, che se uno vende case, fa l'assicuratore, c'ha un bar, parli d'altro con me, onestamente. Quindi adesso facciamo i conti all'Inter, li facciamo realmente in tasca. Allora non so se avete visto ma da quando c'è OCTRI devo dire che è un po' finita questa cosa e i libri in tribunale, l'Inter fallisce, po' eretti, cioè hanno compreso che evidentemente non era questa la sede, non era questo il momento per continuare a dire idiozie di questo genere, che poi quelli che a me veramente per ignoranza fanno più pensare sono quelli nostri che si fidano di questi perché uno magari dice gratis giusto per fare il tifoso quattro robette in tv o magari si apre il canale YouTube per raccontarle, per sfogare insomma le sue ossessioni. Allora vediamo, secondo, ripeto, questo, il bilancio consolidato dell'Inter che anch'io capisco naturalmente rivolgendomi a persone del ramo del mestiere, a commercialisti, a consiglieri di amministrazione di professione, a revisori dei conti, come sta l'Inter. Allora, abbiamo capito che OCTRI ha un piano triennale, questo già l'abbiamo capito dalla presentazione, sappiamo che OCTRI rivenderà l'Inter, perlomeno questo oggi noi siamo in grado di dire e a fronte dei sette trofei che sono arrivati negli ultimi anni tutti ovviamente sotto la criticatissima e per certi versi anche giustamente gestione zang, comunque la strada è quella del dimezzamento delle perdite di bilancio, quindi la chiusura dell'ultimo bilancio è stata verso il contenimento dei costi. Voi dovete sapere che tra il 2020-21, il 2023-24, il costo della rosa, e adesso vi spiegherò perché, si è ridotto di 80 milioni, ma come arrivano giocatori sempre più importanti, perché questo è vero, si è ridotto il costo della rosa? Sì, perché non ci sono soltanto gli stipendi che indubbiamente crescono, ma ci sono anche gli ammortamenti, qui ci sono tante pagine dedicate agli ammortamenti, gli ammortamenti sono in pratica, spiegandoli in parole semplici, l'uso di un asset, di un cespite nel corso degli anni. L'Inter ha utilizzato dei giocatori e il costo di questi giocatori, col passare degli anni, al di là dell'aumento di stipendi, è ovviamente diminuito. Pensate che l'Inter perdeva nel 2020-21 246 milioni, nel 2021-22 140 milioni, alla fine della stagione 2022-2023 l'Inter perdeva 85 milioni, al 30 giugno del 2024 diciamo che la perdita conteggiata è tra i 40 e i 50 milioni, quindi non è che l'Inter abbia il saldo attivo. L'Inter, ribadiamo, perde soldi, costa. L'Inter costa e ovviamente ha come obiettivo quello di tornare inutile. Il Milan che si vanta spesso di avere un utile di bilancio, che credo che sia di 10 milioni, poi alla fine va bene. C'è chi, come dico sempre, concorre al gioco che vuole essere milionario e va in giro sventolando lo scudetto del bilancio e zero trofei sul campo e l'Inter che ha quell'obiettivo lì, con Oktri comunque, di arrivare inutile, fino a questo momento ha raccolto sette trofei. Certo poi tu gli puoi raccontare quello che vuoi agli altri. Puoi anche far arrivare un allenatore come Fonseca, arrivato oggi senza che nessun dirigente fosse insieme allo staff di Fonseca a riceverlo. Puoi raccontargli di un'offerta di 170 milioni imminente per le AO. E questo lo dico anche ai miei. Lo sceicco non è la crasi di scemo ricco per cui viene sceicco. Lo dico anche ai miei pifoidi, siamo andati avanti tre anni con pifo. Anni fa gli raccontavi che c'era un'offerta di 50 milioni per Benasser. Noi possiamo raccontare tutto. Il problema è che poi a un certo punto le bugie hanno le gambe corte e capisci velocemente chi fa propaganda. E qua mi riferisco ai giornalisti, non temete perché il tifoso è giusto che sogni e chi non la fa. Tra l'altro devo dire che malgrado la situazione di non entusiasmo in cui versa il Milan è meritorio, lo dico io che sto dall'altra parte, che molti tifosi siano corsi a rinnovare le tessere. Perché secondo me criticare disertando lo stadio alle proprietà americane non gliene frega niente ragazzi. Criticare continuando a dire questo out e quell'altro out non è una buona cosa. E quindi io ho ammirazione per il tifoso del Milan, della Juventus, del Napoli come naturalmente dell'Inter che anche nei momenti duri dimostra di esserci. Perché ragazzi quest'anno non dobbiamo dimenticare che l'Inter è sempre in sold out ma abbiamo avuto, io parlo dell'Inter, rincari tra il 12 e il 23%. Eppure tutte le 40 mila tessere che avevano previsto di cedere in abbonamento sono state rinnovate. Non c'è stato neanche la possibilità di aprire, voglio dire, per nuovi abbonati che addirittura non ce l'hanno fatta e si sono messi in lista d'attesa per la stagione 2025-2026. I ricavi dipendono dai risultati sportivi ragazzi, questo noi dobbiamo saperlo, no? E anche voglio dire dall'aumento delle sponsorizzazioni. Vincendo tutto quello che ha vinto, e non parlo di Digital Beats che è stato un bagno di sangue, l'Inter è comunque passato a livello di sponsorizzazione dagli 11 milioni di Paramount ai 30 di Batson quest'anno e guardate che 14 milioni Batson li ha già dati. 14 milioni Batson li ha già dati. Poi ci saranno i premi della Champions League che sono molto aumentati con la nuova formula del Mondiale per club. Avevano calcolato 50 milioni, ma è vero che oggi siamo sotto. Tutti i club sono un po' preoccupati perché siamo sotto, devo dire, il cosiddetto breakeven, però c'è tempo da qui a luglio per vedere. L'Inter ha rinnovato dei giocatori, come fai a dirci che la rosa costa meno. È vero. Anzi, vi posso dire che i rinnovi, sono qua, eh? Hanno impattato, o comunque impatteranno, per 14 milioni di euro in stipendi. I nuovi acquisti per 19 milioni, sto parlando di Taremi, di Zelinsky e di Joseph Martinez. Ma attenzione, anche qua, come non si calcolano gli ammortamenti? Non si calcolano neanche i soldi risparmiati. Per esempio, le uscite di Audero, Klassen, Sensi, Sanchez, Quadrado, hanno comportato un risparmio di 24 milioni. Quindi più 19 milioni hai speso, o meno, se vogliamo, ma comunque ne hai risparmiati 24 da questi 5 che sono andati via. Poi è ovvio che la rosa non è completa e quindi è immaginabile che tu possa spendere altri soldini. Ma è anche immaginabile magari che altri soldini arrivino dalle varie sponsorizzazioni, perché in fondo la maglia non è completa, dal botteghino dello stadio che, come vi ho detto, va da Dio. E poi attenzione alle cessioni eccellenti. Eh sì, perché a oggi c'è un Correa che impatta per 8 milioni, ancora sul bilancio. Probabilmente si andrà in minusvalenza, probabilmente. Ma attenzione al tesoretto che continua a raccogliere Piero Ausilio. Ogni tanto sentite di qualche giocatore, 500 mila euro di qua, 600 mila euro di là. Vediamo, oltre a una cessione eccellente, come potrebbe essere quella di Valentin Carboni. Un risparmio potrebbe arrivare anche da De Vrij se verranno confermate ovviamente le notizie di un'offerta per lui importante dall'Arabia, all'Al-Hitiad di Stefano Pioli. Però devo dire che dopo Olanda-Turchia, in cui abbiamo visto anche comportarsi bene i nostri interisti da Cialanoglu con la Turchia che è stata eliminata, a Dunfris che ha fatto però un assist al bacio, ha fatto un salvataggio proprio su Cialanoglu importante, allo stesso De Vrij che è tornato al gol, un gol importantissimo perché ha riequilibrato la partita. Insomma aspettiamo un attimo. Ma oggi faceva piacere, visto che non ci sono partite, fare due conti in tasca all'Inter. Ma farli, voglio dire, con competenza, con cognizione di causa, con buona pace di quelli che io chiamo i social premi Nobel dell'economia, questi qui con le loro barbette, con i loro occhialini, spudratamente rossoneri ovviamente, che si atteggiano a raccontarvi che l'Inter prima o poi non esisterà più. Beh, l'Inter non fallisce, ormai se ne sono resi conto, OCTRI ha un programma triennale, tra tre anni vedremo, certo che c'è il bond, è vero, c'è sempre il bond di 415 milioni di euro che pesa per 30 milioni annui di interesse, ma il bond scade nel 2027. E secondo me, posso dirvelo, secondo me faranno tempo a fallire loro i social premi Nobel dell'economia, quelli che ogni tanto vedete in tv o sui social che qui da me non trovano spazio, piuttosto che l'Inter. Quindi l'Inter continua a perdere tra i 40 e i 50 milioni, ma incredibilmente, mi spiace per voi, per i rivali più che altro, e perché i 4 cidoni che ci credono e non hanno alcuna competenza per parlare di questi temi, l'Inter continua ad andare verso la riduzione dei costi e l'accumulo di trofei, che speriamo naturalmente continui. Viva l'Inter ragazzi, ciao a tutti!